La presenza del presidio di Polizia Municipale in Piazza San Giovanni, che avrebbe dovuto rappresentare un incentivo in più nel disattivare le dinamiche di disturbo della guida e dell'ordine pubblico, in realtà rischia di tramutarsi in una scelta sbagliata dell'amministrazione comunale retta dal sindaco Cassì. Nonostante l'impegno profuso dagli operatori, i quali con professionalità si danno da fare per cercare di attuare al meglio gli ordini di servizio, il fatto che l'intera area del Centro Storico Superiore resti scoperta a notte e tempo porta al verificarsi di episodi che stanno creando non poco scompenso tra gli operatori economici. E questa è la riflessione del consigliere comunale del PD di Ragusa, Mario Chiavola, dopo aver appreso della serie di furti due in una settimana in un solo esercizio commerciale in via Sant'Anna e nelle zone limitrofe. Al momento non ce lo nascondiamo, chiarisce Chiavola, esiste la necessità di presidere con la massima attenzione il Centro Storico. Lo chiedono a gran voce i residenti e gli operatori commerciali, i quali sono costretti a spese supplementari per i danni nella riparazione delle incursioni notturne. Abbiamo appreso atto che negli ultimi tempi il dispositivo Interforze predisposto dalla Questura sul coordinamento della Prefettura ha fornito i risultati sperati almeno in piazza San Giovanni. Ma naturalmente tutto questo rischia di non bastare se è vero come è vero che gli episodi di furti notturni continuano a ripetersi. È una situazione complicata rispetto a cui l'amministrazione comunale ha il dovere di attuare delle misure che possano salvaguardare tutti, residenti e operatori economici. Il rilancio del centro è possibile solo se intanto si salvaguarda la sicurezza.